Guardate qui, la mia ultima produzione di marmellata. Un vasetto è perfetto, l'altro, il sottovuoto, ha fallito. Perché? Cosa ho fatto di sbagliato? E cosa ci insegna questo piccolo, ma comune, incidente domestico? Ciao a tutti! Oggi facciamo alcune marmellate autunnali, perfette per accompagnare le prelibatezze tipiche di questo periodo, come la selvaggina o semplicemente del buon formaggio. E le facciamo in tre versioni. Una gelatina liscia e vellutata, con la classica e profumatissima uva americana. L'altra, invece, è una marmellata rustica e corposa, con una deliziosa uva senza semi. E infine una marmellata di kaki. E logicamente tutte quante con un tocco di piccantezza. E non vi mostro soltanto le tre ricette, ma la guida definitiva alla conserva perfetta e sicura. Sveleremo tutti i segreti per un risultato da manuale. Sfateremo i miti. E le istruzioni sbagliate che ci mandano in confusione. Alla fine di questo video saprete tutto. Iniziamo! Per prima cosa, la preparazione dei contenitori. I vasetti vanno lavati anche se sono nuovi, con del detersivo delicato, quello che si usa per le stoviglie, e subito dopo un risciacquo maniacale. Non devono assolutamente restare residui di sapone. E per sanificarli, la bollitura per 20 minuti. E il forno? Non è affidabile. Addirittura può essere pericoloso per le conserve di questo genere. E i coperchi? Mai in forno e mai bolliti a lungo. Altrimenti le guarnizioni potrebbero rovinarsi e non mantenere il sottovuoto. Semplicemente si lavano, si risciacquano bene anche loro, e poi si scaldano in acqua calda, ma mai bollente, per 5-10 minuti, così da preparare la guarnizione. E durante questi 20 minuti di bollitura prepariamo le marmellate. Un'ultima cosa, durante la bollitura, per evitare che si rompano i vasetti picchiandosi insieme, possiamo utilizzare della semplicissima carta da cucina messa sul fondo, un paio di quadretti, oppure possiamo utilizzare la margherita per la cottura a vapore. In questo modo i vasetti, non toccando il fondo, non sbatteranno durante la bollitura. Ma perché le istruzioni sul mio zucchero gelificante consigliavano di utilizzare il forno? Perché purtroppo molte confezioni riportano metodi obsoleti. Addirittura ho trovato degli errori anche nel procedimento sulle istruzioni dei vasetti. Per la vostra salute vi invito a fidarvi della scienza attuale e di seguire le linee guida ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché le conoscenze scientifiche si aggiornano costantemente. Ciò che credavamo valido anni fa, come le indicazioni su una vecchia etichetta o un consiglio tradizionale tramandato dai genitori, dai nonni, oggi potrebbe essere stato smentito o migliorato da nuove scoperte. Partiamo dalla versione gelée, che è perfetta per quei frutti come l'uva americana che contengono dei nocciolini parecchio fastidiosi. Il profumo di quest'uva è incredibile. La laviamo, la sgraniamo e gettiamo quegli acini che non sono sani. Dopodiché la mettiamo in pentola con un goccio d'acqua sul fondo che serve per evitare di bruciare la buccia. La facciamo cuocere fin quando gli acini non si spaccano, rilasciando tutto il succo. Ora il passaggio chiave per la gelatina. Prendete un passaverdure o, come nel mio caso, un setaccio. Con l'aiuto di un cucchiaio separiamo il succo e la polpa dalla buccia e dai semini. Mi raccomando, dopo aver setacciato, pesiamo il succo e la polpa. Ed è questo il peso che ci serve per calcolare la quantità corretta di zucchero. E se invece avete della buonissima uva senza semi e volete ottenere un risultato più corposo, il tutto è ancora più semplice. Dopo averla lavata e sgranata, pesate direttamente l'uva per calcolare il quantitativo di zucchero, dato che non ci saranno perdite di peso a causa del setaccio, dal momento che non verrà setacciata. E la mettiamo direttamente in pentola fino a quando non si ammorbidisce. Possiamo aiutarci con un frullatore ad immersione per ottenere la consistenza che preferiamo, ma a me piace molto più rustica, mi piace sentire i pezzetti d'uva e le bucce. Quindi mi limito a spaccare gli acini più resistenti con un cucchiaio. E adesso la terza preparazione, la marmellata ai kaki. Non vi mostro il processo perché è la stessa identica cosa. Dopotutto questa ricetta è la base per qualsiasi marmellata di frutta. Ho sbucciato due kaki, li ho messi nel padellino, ho aggiunto della vaniglia che si sposa alla perfezione e ho frullato il tutto. Da qui in poi la procedura è identica. Per ogni chilo di frutta ridotta in purea, quindi nel caso dell'uva americana, ricordatevi di pesare la frutta dopo che è stata setacciata, utilizzeremo 500 grammi di zucchero gelificante e cuociamo per 4-5 minuti. Le istruzioni sulla confezione dicono di aggiungere anche un cucchiaio di succo di limone. Ma sarà veramente necessario? La maggior parte delle ricette dicono di aggiungere succo di limone per una questione di sicurezza. Si aggiunge, per essere sicuri al 100%, che il pH scenda sotto 4.6, così da bloccare il botulino. Ma cosa succede se, come in questo caso, utilizziamo della frutta che già di suo è acida? E considerando che lo zucchero gelificante contiene E330, che non è nient'altro che acido citrico. Insomma, invece di seguire questa regola alla cieca, noi oggi verifichiamo il pH. Facciamo le cose per bene. Durante la cottura della mia marmellata ho prelevato un piccolo campione e l'ho lasciato raffreddare, perché il pH andrebbe misurato a una temperatura ambiente. E ora il momento della verità. Visto? Il pH è a 3.16 senza aggiungere limone, quindi l'aggiunta di limone, in questo caso, è un'operazione superflua. Ecco come la scienza ci rende liberi e consapevoli in cucina. Prendetevelo anche voi un pH-metro. Costano relativamente poco, ma come avete potuto vedere sono estremamente utili. Ok, le nostre marmellate sono quasi pronte. E ora voglio svelarvi un piccolo segreto. Un trucco che i pasticceri e i chef utilizzano per trasformare un sapore buono in un sapore eccezionale. Un ingrediente che, scommetto il 99% delle persone, esclusi i pasticceri e gli chef, non penserebbero mai di mettere in una marmellata. Il sale. E so già cosa starete pensando. Ma sei impazzito? Il sale nella marmellata? Ebbene sì. E adesso vi spiego la scienza che si nasconde dietro a questo gesto stravagante, ma magico. Il nostro obiettivo, naturalmente, non è rendere la marmellata salata. La quantità che useremo sarà minuscola, ma quel pizzico di sale lavorerà a livello chimico e sensoriale in quattro modi. Il sale è un incredibile soppressore di amarezza, distraendo le nostre papille gustative che sentono l'amaro attraverso gli ioni di sodio. E in una marmellata, come la seconda preparazione, quella con all'interno le bucce, può avere una leggera nota amara. In piccole quantità, il sale non sovrasta il dolce, ma lo esalta. Rende la nostra percezione del dolce più intensa. Questo significa che la nostra marmellata risulterà perfettamente dolce e bilanciata. Il sale aiuta a liberare le molecole aromatiche più volatili della frutta, aggiungendolo il profumo dell'uva e le note fruttate del peperoncino che tra poco metteremo, diventeranno più esplosivi. più intensi. È come alzare il volume del sapore. E infine, quel tocco di sapidità quasi impercettibile crea un leggero contrasto che rende il gusto generale molto più complesso. Trasforma un semplice sapore dolce, piccante, in un vero e proprio viaggio sensoriale. Fidatevi. Dunque, quanto ne mettiamo? Per una pentola come questa, circa un chilo di frutta, è sufficiente un pizzico di sale. Letteralmente la punta di un cucchiaino. Lo aggiungiamo verso la fine della cottura e mescoliamo per bene. A questo punto aggiungiamo il nostro peperoncino preferito in polvere, in questo caso, ma a fuoco spento, per preservarne l'aroma. Per le preparazioni dolci sono perfetti i rocotto e i tabasco. Ma vanno benissimo anche gli altri peperoncini, eh? Io ho utilizzato i peperoncini in polvere che ho preparato in questo video. Ma potete tranquillamente utilizzare dei peperoncini freschi o che avete congelato. Vi basterà tritarli finemente e inserirli fin dall'inizio insieme all'uva o ai cachi o a qualsiasi altro frutto vorrete utilizzare. Ed ecco fatto. Con un gesto semplicissimo abbiamo appena elevato la nostra marmellata da buona a indimenticabile. E adesso, dopo 4-5 minuti di cottura circa, ci possiamo preparare all'invasamento. Primo, riempire i vasetti appena tolti dall'acqua bollente e lasciarti ad asciugare sopra un pezzo di carta da cucina capovolti vedrete che asciugano subito. Dopodiché riempirli utilizzando un imbuto così da evitare di sporcare i bordi ma nel caso in cui si sporcano puliteli con un pezzo di carta da cucina. Ed è proprio ora che inizia la parte più importante. Come le trasformiamo in conserve sicure al 100%? Dopo aver riempito i vasetti ancora caldi lasciando un centimetro dal bordo e averli chiusi per bene li dobbiamo capovolgere. no assolutamente no è una pratica superata il rischio che la marmellata acida toccando la guarnizione la rovini è troppo elevato. Il metodo corretto è la bollitura in acqua quindi immergiamo i vasetti nell'acqua coprendoli per almeno un paio di centimetri e facciamo bollire per 15-20 minuti. Logicamente appena inizia a prendere il bollore abbassiamo la fiamma così da mantenere un bollore ma che non spacchi tutti i vasetti e comunque è buona norma mettere intorno ai vasetti uno straccio o dalla carta da cucina. Potete anche utilizzare la margherita che aiuta a mantenere i vasetti distanti uno dall'altro. Passati i 15-20 minuti della bollitura spegniamo il fornello lasciamo la pentola dove sta i vasetti al suo interno e il giorno dopo passate 12-24 ore quando il tutto si è raffreddato possiamo estrarre i vasetti vista tatto e udito guardiamo bene i coperchi dovrebbero essersi abbassati se lo schiacciamo sta fermo non va più giù di così e non si deve sentire alcun suono bene possiamo riporli in dispensa dove si conserveranno per almeno un anno e il mio vasetto di gelatina a cui non è riuscito il sottovuoto semplicemente se non è entrata dell'acqua non c'è bisogno di buttarlo va subito messo in frigorifero e consumato nel giro di un paio di settimane ma purtroppo nel mio è entrata dell'acqua molto probabilmente la guarnizione era difettosa e l'acqua nella confettura non va bene meglio evitare problemi e gettarla ed ecco qui i nostri risultati questo era quello che rimaneva dopo l'invasamento delle mie due gelatine conservato in frigorifero ed è buonissimo una gelatina guardate dall'aspetto fantasma come potete vedere era pieno non dura molto ed eccola qua l'uva americana è eccezionale ha un sapore un profumo fantastico una cosa mi raccomando quando aprite una marmellata è buona norma utilizzare un cucchiaino pulito dopo che ho preso il quantitativo che voglio mangiare non mi metto il cucchiaino in bocca per poi riprenderne ancora il cucchiaino che entra nel vasetto deve essere sempre nuovo e pulito una volta preso il quantitativo che voglio mangiarmi chiudo il vasetto e lo rimetto in frigo facendo così la conserva in frigorifero si conserverà a lungo due settimane tre settimane anche questa è la marmellata corposa quella con l'uva intira cucchiaino nuovo vedete che è molto più corposa questa è veramente spettacolare qua si sentono dentro proprio i pezzetti la buccia è molto piacevole questa è un'uva senza semini ma in realtà ci sono dei piccoli semini microscopici quasi non si sentono non danno fastidio come contrariamente invece quelli dell'uva americana marmellata di kaki questa è spettacolare si sente la vaniglia buonissima vedete lei com'è bella cremosa è già così di suo però un colpettino col frullatore ci sta bene che mescola ancora meglio la vaniglia e i sapori qua ho esagerato col peperoncino ma ci sta marmellata di kaki è eccezionale provatela bene oggi avete imparato non una ma tre ricette ma soprattutto avete imparato tutto quello che c'era da imparare per non dovervi mai più affidare alla fortuna adesso potete provare anche voi a fare queste ricette oppure fare le vostre preferite in totale sicurezza questa procedura la bollitura e la pastorizzazione finale servono per conservare più a lungo in una credenza a temperatura ambiente delle conserve acide quindi già sicure dal botulino quindi vale anche per la salsa ai peperoni coi peperoncini che ho fatto in questo video valgono le stesse regole se questa guida vi è stata utile sapete cosa fare lasciate un like iscrivetevi al canale e se avete domande come sempre lo spazio sotto è tutto vostro grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti grazie a tutti hot 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 Reggio